1.846 paganti di cui 1.050 abbonati e 79 ospiti, poco più di 400 paganti se si contano gli accrediti. Un dato che si è trasformato in goccia, che ha fatto traboccare il vaso e che ha scatenato le dimissioni dell'amministratore unico del Monopoli Alessandro Laricchia, che ha consegnato il suo mandato in mano al patron Lopez. Da una parte quel calore che ci si aspettava da un pubblico nei confronti di una squadra che fa sognare la Serie B, dall'altra i numeri freddi, freddissimi, che il mondo del calcio propone a questi livelli. Il Veneziani pieno nel campionato di eccellenza è solo un lontano ricordo, erano altri tempi, era un altro calcio, c'erano altri costi per le famiglie. Nel 2020 la media a spettatori per una partita di Serie C si attesta tra il 2 e il 5% della popolazione. Pontedere e Renate, i vertici del girone A, non arrivano a mille spettatori di media e nel girone C il dato si alza, solo grazie alla presenza di piazze grandi e storiche come Bari, Reggio Calabria, Terni, Catania, Catanzaro e Avellino. C'è delusione e amarezza, lo capiamo, una gara tra terza e quarta avrebbe meritato di più, i sacrifici fatti dall'attuale proprietà meritano di più. Questa squadra che fa innamorare l'Italia ha bisogno di almeno 3.000 spettatori per contare sul cosiddetto dodicesimo uomo in campo. Quelle 3.000 presenze più volte invocate da Lopez e la Ricchia per rinunciare al contributo sul minutaggio e giocarsela, non ce ne vogliano gli under a darmi pari con le altre big, ma Monopoli è come un innamorato che vede tentenamenti dall'altra parte con degli sbalzi d'umore che ti generano 3.000 persone contro la regina e 1.500 scarse nella gara successiva perché nei tempi moderni il calcio tira meno di altri passatempo e i dati statistici hanno spesso ragione e allora bisogna provarci lo stesso con sangue e sudore, come dice uno striscione, e per buona pace della società, con il pubblico quanto basta.